Salve, sono Monica Frassoni, co-presidente dei Verdi Europei e vorrei esprimere il mio sostegno al referendum che avrà luogo il 3 giugno prossimo in Piemonte sulla limitazione e regolamentazione della caccia. Sono molto contenta che questo referendum abbia luogo perché noi a livello europeo ci siamo molto occupati delle molteplici violazioni della legislazione europea che avvengono in quasi tutte le regioni italiane ed è molto importante ed opportuno che attraverso l'espressione della volontà popolare si arrivi a regolamentare meglio quello che ormai appare veramente come un residuo del passato e come un'inutile pressione nei confronti di un territorio, di un ambiente ma anche di una cultura come quella italiana che ha bisogno di insistere molto di più sulla preservazione e valorizzazione del suo patrimonio invece che sulla sua distruzione di cui ovviamente la caccia fa parte. Noi siamo dell'idea che la caccia debba essere un'espressione o un modo di divertirsi che debba lentamente essere superata e riteniamo che questo approccio, che è un approccio graduale, come questo del referendum, sia quanto mai opportuno anche per spiegare e rendere chiaro all'opinione pubblica il perché queste cose devono essere regolamentate in vista, si spera, di una loro graduale eliminazione. Quindi pieno sostegno e molti auguri per questa consultazione elettorale. Ciao.